Nel giorno in cui Putin accusa l'Occidente di aver provocato apposta la guerra in Ucraina, nella fase in cui il ministro Giorgetti sottolinea che gli aiuti economici vanno sottratti dal patto di stabilità per tutelare l'economia nazionale, Piacenza analizza il conflitto bellico in Est-Europa tra Russia e Ucraina. Lo fa attraverso un convegno organizzato del sindacato CISL insieme alla Comunità Ucraina di Piacenza nel Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi. L'incontro si è svolto oggi, antitutto uno sguardo alle radici di questa guerra. Le ragioni storiche di questo conflitto risedono essenzialmente nel fatto che la Russia e l'Ucraina dal 1991 in poi hanno intrapreso due vie di sviluppo completamente diverse che hanno portato da una parte l'Ucraina ad essere sempre più democratizzata e europeizzata e dall'altra invece la Russia a diventare una dittatura sotto la guida di Vladimir Putin. Il fatto che l'Ucraina sia riuscita a democratizzarsi, seppur in un processo che ha avuto tanti ostacoli e una via abbastanza tortuosa, dimostra in un certo senso che anche la Russia poteva democratizzarsi e quindi Putin la attacca perché la democrazia in Ucraina dimostra che anche la Russia potrebbe far meno di Putin. Siamo passati da una guerra lampo ad una guerra di luguramento, io spero che si possano creare le condizioni per una pace durevole. Io credo che una soluzione sia possibile perché il conflitto ha aumentato di intensità e credo che non possano pagare in questo modo le persone prima ancora di tutte le conseguenze economiche. Il convegno è stato moderato dal giornalista di Telelibertà Michele Arancati. Tra gli ospiti anche Andrea Cuccello, segretario nazionale della CISL, il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Partigiani Cristiani Mario Spezia e padre Mario Toffari, direttore dell'Ufficio Diocesiano Pastorale per i Migranti.